Signori, eccoci qui il giorno dopo con delle pagelle soddisfatte, perché lo so che ieri ho traumatizzato molti di voi che hanno detto Fred, non mi aspettavo di sentirti dire la parola sono soddisfatto. Beh ragazzi, bisogna sempre metterla nel contesto giusto, era sempre un Milan Empoli, quindi soddisfatto per Milan Empoli. Poi ovviamente ragazzi, ci sono tante cose da sistemare in questa squadra, ma quando la squadra gioca bene, perché bisogna andare per forza contro? Non si può essere soddisfatti e contenti per una sera? Poi ovviamente i veri test arriveranno nelle prossime partite, perché è quando critico, e Fred sei sempre troppo critico, è quando dico che sono soddisfatto, e vabbè ma era l'Empoli. Ragazzi, decidetevi, decidetevi, ma le pagelle sono belle, sono dei bei voti, ci sono dei voti altissimi, perché ci sono dei giocatori strepitosi in questo momento nel Milan che tutta Europa ci invidia, e quindi godiamoceli finché ce li abbiamo nella nostra rosa, perché poi sicuramente partiranno le voci di mercato. Io ogni volta che segno un giocatore del Milan che sta facendo bene, dentro di me dico che è bello, però poi c'è sempre quella vocina che dice, adesso vedi che te lo venderanno, adesso vedi che te lo venderanno. L'avete lasciato il like? Mi raccomando ragazzi, supportate la serie delle pagelle perché è importantissima, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e sotto scrivetemi il vostro migliore e peggiore in campo. Se volete fatemi tutta la lista. Allora, partiamo subito da Magic Mike Magnan, che è il voto più semplice, perché gli diamo un 6 d'ufficio, perché è uno spettatore non pagante, alla fine forse gli hanno chiesto anche di pagare il biglietto. Una serata tranquilla, ogni tanto questo buon uomo che ogni tanto ci salva con dei miracoli incredibili, se la merita, quindi Magnan 6. Gabbia, voto 6 e mezzo, è diventato praticamente insuperabile. Ormai gli avversari neanche ci provano più, lanci la palla in avanti e lui ti mette il corpo davanti e ti anticipa. Cerchi il dribbling nello stretto e lui ti mette il piede e ti toglie via il pallone. E' sempre posizionato nel posto giusto. Ragazzi, acquisito quella sicurezza, quella leadership che probabilmente gli mancava. E' sempre stato un giocatore, no? Che diciamo, dobbiamo vedere, dobbiamo vedere se è un giocatore che riuscirà a rimanere nel Milan. Ragazzi, era tutta questione di testa, perché è un giocatore veramente molto ma molto forte. E ieri ha fatto una gran partita, doveva marcare Pellegri, che non è comunque un avversario fisicamente facile da marcare. Ma lui ormai ha superato anche il limite del Super Saiyan. Ormai sta viaggiando a livelli altissimi. Adesso è arrivato anche il rinnovo, sono felicissimo di questo. Ehi, ragazzi, abbiamo pochi italiani, ma almeno quello che abbiamo è buono. Malik Chao, anche lui ha fatto molto bene, quindi anche per lui un 6 e mezzo. Lui gioca molto d'anticipo, cerca molto di giocare sulla posizione dell'avversario, quindi si sta comportando molto bene. E' un giocatore completamente recuperato, l'avevamo perso. Io dicevo sempre, aspettiamo, aspettiamo, perché poi è facile dire, e Calulu l'hai regalato. Però Calulu stava nelle stesse condizioni di Chao. Cioè due giocatori che nessuno voleva vedere in campo, perché stavano facendo malissimo con il Milan. Ma, ragazzi, cambia l'allenatore, cambia il modo di difendere. E i giocatori vedete che poi si rianimano, non è che diventano tutto un tratto scarsi. Stessa cosa posso dire di un Tomori, che adesso magari non lo vuole vedere nessuno. Ma è un altro giocatore che, se messo nelle posizioni giuste, si rivaluterà anche lui, anche Pavlovich. Quindi, il discorso di Chao, io dicevo sempre, non lo abbandonate, Chao, non lo abbandonate. C'era proprio un video in cui dicevo, io non lo abbandonerei così facilmente. Mi so preso il 90% di gente che mi diceva, no, no, ma dobbiamo cenderlo subito. È invece un giocatore utilissimo per il Milan. E sta migliorando tanto anche nella fase di costruzione, perché è lui quello che fa iniziare le azioni del Milan. Emerson Royal, signori, probabilmente la miglior partita, togliamo il probabilmente, di Emerson Royal nel Milan. Si becca un bel 6,5 pieno, quindi più che è sufficiente, non solo riesce a raggiungere la sufficienza, ma lui in un colpo solo si becca anche il 6,5. Qualcuno di voi potrebbe dire, Fred, dagli anche 7, giusto perché è Emerson Royal, però facciamolo stare con calma, che se no poi si monta la testa a sto ragazzo. Comunque ieri bene, dai, ieri non ha fatto cappellate difensive. E' stato attento, in fase offensiva è stato utile, nel gol, nel primo gol, comunque lui partecipa all'azione. Era sempre, praticamente nel primo tempo, l'uomo smarcato, non riuscivano a marcarlo in quella posizione. Ragazzi, abbiamo trovato un terzino destro? No, ovviamente la prossima partita farà cagare a spruzzo, ne sono certo. Però, almeno per ieri, il suo l'ha fatto. Teo Hernandez invece gli do un 6, ma proprio perché abbiamo vinto, perché ieri ha fatto proprio il minimo indispensabile. Bene dietro, bene in fase difensiva non ha rischiato nulla, è sempre stato attento, puntuale. Però in fase offensiva è proprio del tipo, bah, se volete vengo e gioco, ma non è che io abbia tutta sta voglia. Nel primo tempo qualcosina l'ha fatta, nel secondo tempo ha detto proprio, lasciatemi perdere, la partita per me è finita. Sto qui dietro e aspetto gli avversari, quindi un Teo ancora non determinante. Adesso arriviamo ai pupilli, ai gioielli, al centrocampo del Milan, che in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni. Il primo è Yusuf Fofana, voto 7,5 e ovunque quest'uomo. Erano anni che stavamo cercando il sostituto di Frank, che sì, e probabilmente ragazzi l'abbiamo trovato. L'abbiamo cercato tantissimo in questo mercato, sono anni che cerchiamo quel tipo di giocatore, non siamo mai riusciti a trovarlo. Adesso forse la nostra attesa è ripagata, perché questo è un giocatore addirittura che potrebbe fare qualcosa anche in più. Perché se guardate l'intelligenza calcistica che c'è nel terzo gol di Renner's, in cui riesce a filtrare quel passaggio, e lì non solo ci vuole il piede, che ce l'ha, perché lo sta dimostrando. All'inizio mi dava un po' il dubbio, però adesso lo sta dimostrando, sta sfornando anche assist a manetta. Però ha anche quell'intelligenza di darla, capito, non sul piede, ma darla sulla corsa. Quindi è un giocatore che, ragazzi, era un nazionale francese, tutti ne parlavano bene, il Monaco non voleva liberarsene, e alla fine ragazzi c'è andata bene, sta crescendo sempre di più. E davanti alla difesa ragazzi, a volte c'è solo lui, cioè ci sono delle volte in cui magari prendiamo quel famoso contropiede, quella famosa ripartenza, e lui riesce sempre a rallentarla. Poi magari, molte volte non si nota, perché non è che va a recuperare il pallone, non è che recupera sempre il pallone, però se notate, in ogni azione rallenta sempre l'azione dell'avversario, e quindi dà il tempo a tutti quanti di rientrare. E l'ha fatto ieri tre, quattro volte, me ne sono accorto. Andava sempre in quella pressione, ma non per andare a togliere il pallone, ma solo per rallentare l'azione offensiva dell'avversario, per aiutare anche i compagni. Quindi giocatore stra, stra utile, veramente, ci sta trascinando. Lui insieme all'NVP, l'NVP di questa partita, Tijani Reinders, voto 8,5. E qui signori, ormai abbiamo finito tutti gli appellativi che potremmo dare a questo calciatore. È mostruoso, è sontuoso, è determinante, è indescrivibile, è magnifico, sa fare tutto. Sa fare anche gol ormai, ha una tecnica assurda. Già mi faceva impazzire quando non faceva gol, quando non faceva assist, quando non faceva niente. Bastava soltanto di vederlo controllare il pallone con quella testa alta, con la schiena dritta, e già mi emozionavo. Pensate adesso che li vedo fare pure un gol alla Cacà. Cioè ieri ha fatto un gol alla Cacà con quella ripartenza, facendo finta di andare a sinistra. Ha tagliato il centro e ha tirato quello un gol alla Cacà. Poi sicuramente non c'ha la progressione di Cacà, perché Cacà è unico e non ne nasceranno mai più come lui. Però, signori, ha una bella progressione. Cioè sa fare tutto. È proprio il centrocampista perfetto. Gli abbiamo visto anche fare dei recuperi da mediano ieri. Ieri andava a recuperare anche il pallone. Cioè sa fare tutto. Sa passare, sa tirare, sa crossare, sa driblare, sa creare superiorità numerica. È veloce, perché palla al piede è veloce. È un giocatore che comunque è rapido, perché lì non ti dà neanche il tempo di capire cosa sta succedendo. Bombo, parte come una scheggia e tu stai lì al centrocampo che non capisci niente. Molte volte spacca proprio il centrocampo in due, che lo vedi proprio gli avversari fermi, senza armi, per poterlo contrastare. È bravo anche difensivamente, perché è uno che comunque ha anche il tempo dell'andare al contrasto, dell'andare a recuperare il pallone. Signori, giocatore gigantesco, giocatore completo, veramente non so che dire. Io sono certo che Renders avrà tirato già le attenzioni di tantissimi club, perché ragazzi, questo in Serie A nel suo ruolo probabilmente sta al top. Non ne trovi così, ce ne sono pochissimi giocatori così completi. Magari ci sono dei giocatori che sanno fare più una cosa, magari ci sono giocatori che sanno fare più un'altra cosa. Ma un giocatore così completo è veramente difficile da trovare. Musa, voto, sei e mezzo, il nostro equilibratore, anche lui fa il suo. Ovviamente ragazzi, siamo sempre lì, Musa deve fare quello. Se vi aspettate Musa che va sulla fascia, salta l'uomo e mette la palla in mezzo, sì, lo può fare una volta perché ci prova, la seconda volta inciampa sul pallone e finisce così. Ma non deve fare quello, non è pagato per fare quello, in poche parole, non è il suo lavoro. Il suo lavoro è quello di dare equilibrio, di dare la possibilità anche magari a Pulisic di rimanere un po' più avanti lì per vie centrali con Musa che aiuta un po' di più. E quindi praticamente il modulo cambia in base a come sta andando l'azione. Molte volte è rimasto comunque largo a destra, sta dando una mano, giocatore utile, non mi fa impazzire, i suoi piedi sono sempre quelli perché ogni volta che c'è da impostare, da fare, è un giocatore che mi fa venire i brividi. Però in questo momento forse sta diventando quasi imprescindibile per Fonseca e finché facciamo buone prestazioni e vinciamo, ben venga Musa. Tanto non è che ci sia tantissima scelta tra quelli che dovevano giocare, tipo i Ciuquese della situazione, che non stanno rendendo al massimo, a sto punto Fonseca preferisce avere l'equilibrio e non andare a perdere le partite. Poi dopo questa partita secondo me Musa giocherà ancora di più, sempre di più, perché per me Fonseca da questa partita cercherà di creare il Milan che vedremo fino alla fine della stagione. Pulisic voto 6, in posizione centrale mi piace sempre perché è uno che comunque fraseggia con i compagni. Lo vorrei vedere un po' di più allargarsi verso sinistra e cercare di dialogare un po' con Teo e Leao, lo vedo poco dialogare con Teo e Leao. Però è un giocatore sempre imprevedibile, ieri diciamo che non c'è stato bisogno del suo aiuto, ecco mettiamola così. Pulisic è uno che ti toglie sempre le castagne dal fuoco, ieri ha visto che ci stavano pensando gli altri a fare gol, vedeva un renders clamoroso, un renders tremitoso e diciamo che ha fatto il suo compitino, che è il compitino di Pulisic è sempre una sufficienza. Leao voto 6,5, l'ho visto in partita, l'ho visto voglioso, l'ho visto che voleva prendere il pallone, poi non ha fatto una partita clamorosa che dici ha stradominato gli avversari, però comunque ha cercato di rendersi utile e a me già va bene questo. Già vedere un Leao propositivo contro l'Empoli in casa, che magari lo potevi vedere proprio svogliato come sempre, ovvio ragazzi in fase di copertura non è il Pulisic o il Morata della situazione, che in tutte le azioni stanno sempre lì a mangiare le caviglie agli avversari, ogni tanto lo vedi che inizia a ciondolare, ciondolare e dice vabbò. Però rispetto al solito l'ho visto un po' più concentrato, l'ho visto anche un po' di più coprire le linee di passaggio, cosa che difficilmente fa e quindi l'Empoli magari aveva un po' più di difficoltà, specialmente nel secondo tempo, perché nel primo tempo la palla l'abbiamo avuta quasi sempre noi, nel secondo tempo quando c'è stato quel momento di esplorare l'Empoli, comunque l'ho visto concentrato anche in quella fase. Dal punto di vista offensivo poteva fare qualcosina in più, sicuramente lo può fare, però secondo me è stato utile alla causa e quindi non creiamo cose strane su Leao anche quando non servono, godiamoci la serata. Morata, li do 7 perché ha fatto il solito grande lavoro di giocatore che va a prestare chiunque, che va a coprire ogni spazio, che va a coprire tutti, ma ha fatto gol e ha fatto anche un bel gol da attaccante, da centroavanti, che è quello che ci serve. Ripeto, è quello che ci serve. Non mi basta più il Morata che va a coprire affare. Ogni volta che Morata farà quel tipo di partita, per me ragazzi non sarà più sufficiente, ve lo dico. Per me Morata deve fare gol, deve fare gol, o almeno deve creare occasioni da gol. Non voglio più vedere un Morata che si sbatte in difesa e poi fa zero tiro in porta. Morata deve fare la partita come ha fatto ieri, deve essere decisivo lì davanti e poi ogni tanto aiutare, ma non andare a sbattersi a destra e a sinistra ogni volta su tutte le azioni per poi non avere mai la lucidità in area di rigore. Quindi contentissimo della prestazione di Morata, spero sia la prima di tante perché voglio vedere tanti gol da parte di Morata. Infatti la sbloccata è quello che è stato proprio il gol più importante perché la cosa più difficile del Mina è sempre sbloccare le partite. I subentrati ragazzi, quando sono entrati la partita ormai era già andata, quindi non gli do un voto, ormai erano entrati a partita già morta. Mi è piaciuto come è entrato in campo Ciuquese che cerca sempre di metterci qualcosa del suo. Abram non riesce a segnare ancora a porta vuota, va bene così. Fonseca gli do un 6,5 perché stavamo giocando contro l'Empoli, se no sarebbe stato anche un 7 pieno. Però il suo dovere l'ha fatto, ha messo una formazione equilibrata, ha messo una formazione che ci ha fatto divertire, che ha giocato bene, che ha fatto gol. Forse sta trovando il suo equilibrio, ovviamente dobbiamo vedere in una partita un po' più difficile. Però per quello che aveva dimostrato il Milan di Fonseca, forse erano più difficili le partite contro l'Empoli che magari una partita contro il Real Madrid. Ecco, questa è una follia, perché il Milan quando non trova spazi è molto in difficoltà. E ieri comunque è riuscita a creare le palle da gol, andando a prestare l'avversario, andando a recuperare palla nella metà campo avversaria e non vedendo un'Empoli chiusa. Perché quando tu cerchi di impostare con l'Empoli che si chiude, il Milan non ce la farà mai a fare gol. Il Milan deve sempre cercare di fare gol così, cercando di andare a essere propositivo, recuperare palle e fare gol. Almeno con le squadre piccole. Poi contro squadre come Atalanta, Real Madrid, queste squadre qua, allora puoi anche giocare in ripartenza. Sicuramente con l'Atalanta sarà una partita diversa. Però io spero che abbia capito come affrontare queste squadre. Ok? Cagliari, Lecce, Empoli. Bisogna affrontarle così, con il suo famoso gioco dominante. Poi bisogna comunque capire che in altre partite bisogna giocare in ripartenza. Con l'Atalanta sarà una partita di ripartenza. Anche perché l'Atalanta è una squadra che gioca molto bene. Ma noi abbiamo tutte le caratteristiche per poter vincere in ripartenza. Quindi spero di vedere un'altra partita intelligente da parte di Fonseca che deve adattarsi anche all'avversario. Questo è importante. Ieri ho visto un grosso passo in avanti contro una squadra piccola in casa. Che è una delle difficoltà più grandi per noi del Milan. Sembrerà assurdo ma è così. Sono le squadre che ci mettono più in difficoltà. Sono sempre quelle squadre che non riusciamo mai a giocare bene. Vinciamo così ma sempre con gli avversari che ci massacrano. E invece ieri niente. Ieri abbiamo dominato tutta la partita. Abbiamo gestito tutta la partita. È stata una serata tranquilla ed è anomalo per noi. Quindi spero che Fonseca abbia trovato la soluzione giusta. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Sempre forza mira. Bella.